Siamo tutti disorientati in questo periodo, non abbiamo più una sola certezza. Pensate, anche la matematica sta entrando in crisi di fronte all'ultimo decreto legge, perché i numeri non danno il senso della realtà. Proviamo a farlo? Allora, se due persone vanno da casa loro verso casa di una persona dove abitano marito, moglie e due figli di 16 anni, possono arrivare a 6 e quindi possono trascorrere insieme a Natale. Se invece le due persone più due figli di 16 anni vanno a casa degli altri due, non possono andare a casa degli altri due. Quindi 6 non è uguale. Cioè, se sono 6 in un caso e sono 6 nell'altro, i primi 6 possono stare insieme, i secondi 6 non possono stare insieme. E poi c'è il dominio della divisione rispetto alla moltiplicazione. Se 10 persone si dividono in 5 macchine e quindi a 2 a 2, potranno raggiungere una casa, una qualsiasi casa. Anche perché poi dove stai andando, se vuoi, per la legge della privacy, non è necessario indicarla. E quindi a 2 a 2, 10 persone possono arrivare in un'unica casa. Differentemente dal fatto che 3 persone, se per caso partono tutte insieme, non possono raggiungere alcuna casa. Perché in 3 non si può raggiungere alcuna casa. La matematica è strana. Peraltro con la moltiplicazione, cioè con il fatto che per essere 10 persone, per andare da un'altra parte, 10 persone servono 5 auto, cresce la possibilità che tra i 5 autisti ci sia qualcuno che il giorno di Natale, che si mangia e si beve, possa aver bevuto tanto. Quindi pericoli ulteriori. E c'è un ulteriore rischio, il fatto che 5 auto finiscono per inquinare maggiormente, quindi maggiore traffico. Insomma, è tutto relativo. Veramente è tutto relativo in un periodo come questo, che dice però alla fine che gli sconsiderati considerano essere sconsiderati, i responsabili continueranno a essere responsabili, indipendentemente da come la poniamo. Ed fa sorridere il fatto che dovendo calcolare queste cose poi alla fine si scopra che è fatta la legge, di legge non si tratta, si trova l'inganno, anche perché forse si voleva entrare troppo nell'ambito della legge. Cioè stabilire con certezza invece altre cose sarebbe stato più opportuno. Le certezze che portano però ad avere delle possibilità di essere rilevate. Perché in questo modo veramente sembra uno scherzo. Due persone, i nonni ad esempio, possono andare dai relativi figli, marito e moglie, con nipoti al di sopra dei 14 anni, e quindi fai muovere i due anziani per andare dai figli, i cui due figli, o meglio il marito e la moglie, più i due ragazzi che fanno parte della famiglia al di sopra dei 14 anni, non possono andare dai nonni. Paradossi di questo Natale. Un Natale che certamente non dimenticheremo.